nella vita di coppia si sta bene insieme ci si conforta a vicenda ci si dà sostegno ma questo non succede sempre nello stesso momento e non succede sempre in modo bilanciato per cui in alcune coppie ci sono partner che danno più dell'altro vorrei parlarti di questo vorrei chiederti secondo te stai dando troppo al tuo partner ti propongo sette domande per mettere chiarezza su questo argomento la vita di coppia richiede impegno da parte di entrambi i partner se così non è se uno dà di più dell'altro non è una coppia non è un'unione che porta i partner ad elevarsi rispetto al piano materiale dello sfruttamento del dare e avere se nella coppia qualcuno dà di più dell'altro significa che l'altro dà meno quindi sta sfruttando il partner generoso per capire su quali basi si fonda la tua coppia ti pongo sette domande ti invito a rispondere tra te e te prima domanda quanto sei coinvolto nella tua coppia è il tipo di persona che ammiri il tuo partner con cui vuoi passare tutta la vita per costruire cosa insieme devi avere delle risposte molto chiare molto precise non puoi essere approssimativo questo è un esame che fai tra te e te se hai l'impressione che stai dando troppo al tuo partner seconda domanda il tuo partner farebbe lo stesso per te lo stesso che tu fai nei suoi confronti ti ammira vuole passare con te tutta la vita per costruire cosa insieme conosci le risposte anche qua devi essere estremamente sincero devi essere capace di rispondere come risponderebbe il tuo partner perché se non sei capace vuol dire che non vi conoscete bene terza domanda avete le stesse priorità su famiglia tradizioni gestione della vita quotidiana progetti per i figli avete la stessa visione c'è almeno il 90 per cento di visione comune non potete accontentarvi di andare un pochino d'accordo e non potete nemmeno fare quello stupidissimo ragionamento fondato sulla battuta gli opposti si attraggono non è vero gli opposti si eliminano a vicenda l'acqua spegne il fuoco il fuoco fa evaporare l'acqua quindi non c'è alcuna attrazione tra gli opposti e per una coppia ci vuole un'identità divisione a proposito di famiglia tradizione gestione della vita quotidiana progetti per i figli e progetti su ampia scala non potete litigare continuamente perché la pensate in un modo diverso quindi come minimo perché una coppia sia riuscita perché una coppia sia composta da partner che si danno in egual misura sostegno e amore occorre una visione comune per almeno il 90 per cento quarta domanda il tuo partner sa che la vita di coppia richiede maturità impegno e dedizione magari ti sei messo con qualcuno che è simpatico però non si prenda le responsabilità il tuo partner cerca soltanto vantaggi immediati tu per il tuo partner rappresenti una fonte apparentemente inesauribile di vantaggi perché il tuo partner si appoggia ricava sostegno comprensione soldi ma il tuo partner sa che la vita di coppia richiede maturità sa che richiede impegno sa che richiede dedizione tu sta insieme con un partner maturo quinta domanda secondo te potresti vivere meglio insieme con il tuo partner rispetto a quello che fate adesso secondo te avete già raggiunto il massimo dell'intesa o potreste vivere meglio ti sei posto questa domanda ci pensi spesso cioè sei insoddisfatto per come vanno le cose immagini un'altra realtà per voi due ti capita di ritrovarti a pensare a se soltanto succedesse questo se soltanto fossimo capaci di ti capita di porti questa domanda domanda numero 6 c'è una buona comunicazione tra voi due la comunicazione non è indispensabile vi spiegate oppure litigate quando vi trovate distanti su un argomento che cosa fate vi ripetete la battutina gli opposti si attraggono oppure litigate convinti che sia una cosa giusta perché gli opposti litigano o siete a un livello di civiltà superiore in cui vi spiegate vi scontrate o vi venite incontro qual è il vostro stile usate cliché e scuse o siete sinceri è molto facile appoggiarsi ai cliché sono stanco o mal di testa o tante preoccupazioni lavoro in casa lavoro fuori casa te l'ho già spiegato oppure siete sinceri naturalmente la sincerità deriva dalla maturità ma secondo te nella tua coppia siete sullo stesso livello in fatto di comunicazione domanda numero 7 l'ultima di questa piccola serie dopo tutte queste domande che ti ho fatto appunto in questa serie qual è il sentimento che provi pensando al tuo partner con le precedenti sei domande ti ho fatto riprendere in considerazione il rapporto di coppia che vivi e ti ho fatto notare alcune aree in cui potrebbe esserci differenza di partecipazione di contributo tra te e il tuo partner magari queste domande ti hanno fatto capire che il tuo partner non sta dando alla vostra coppia tanto quanto dai tu e e allora dopo tutte queste domande qual è il sentimento che provi pensando al tuo partner lo ami come prima di queste sei domande lo ami di più lo ami di meno che cosa significa questo per te la risposta che tu dai ossia lo amo di più di meno o come prima che cosa significa per te una coppia sana sviluppa la gioia di vivere di entrambi i partner perché è una coppia è un gioco di squadra se ti sacrifichi sperando di aiutare ed è una cosa molto diffusa ci sono tante persone che vanno incontro al partner con l'intenzione di aiutarlo di guarirlo offrono aiuto incondizionato sperando che le cose miglioreranno se fai questo sbagli perché permetti al tuo partner di radicarsi nei suoi errori lo stai danneggiando parecchio se tu stai insieme con una persona che ha dei problemi e tu tolleri quei problemi anzi più il tuo partner ai problemi più tu vai incontro al tuo partner lo stai premiando per i suoi problemi lo stai radicando nei suoi problemi quindi non siete sullo stesso piano magari la tua generosità è anche in buona fede ma c'è qualcosa che non va nemmeno in te perché ricordati una coppia sana composta da persone mature sviluppa la gioia di vivere di entrambi i partner se la tua coppia si fonda sull'aiuto che tu dai al tuo partner e forse è troppo quell'aiuto stai sbagliando perché permetti al partner di radicarsi nei suoi errori lo stai danneggiando parecchio se questa è la vostra situazione vi consiglio di consultare un esperto al più presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti